Se state avendo problemi riguardo all'installazione di Black Ops 6 ovviamente è possibile risolvere in tantissimi metodi che vi spiegherò ora quindi in questo caso iniziamo prima ad andare direttamente sulle nostre applicazioni quindi scriviamo qua sopra installazione applicazione ovviamente faremo tutto attraverso l'Xbox Game Pass per quelli che hanno avuto problemi proprio a scaricare e installare la versione Black Ops 6 quindi una volta andati così su app installate vai a scrivere direttamente Xbox vai direttamente sui tre puntini e andiamo su opzioni avanzate ovviamente scendiamo fino a giù fino a interrompere così il servizio di Xbox e provare così a reimpostarlo e poi ripristinarlo ovviamente chiudiamo il nostro Xbox interrompiamo anche i servizi in gestione attività reimposta quindi facciamo il ripristino una volta che si è caricato tutto passiamo direttamente a reimpostare l'applicazione quindi i dati dell'app verranno eliminati quindi dovrai rifare l'accesso quindi devi solamente mettere il login facciamo reimposta se non dovesse funzionare puoi semplicemente reinstallare così l'applicazione Xbox Game Pass quindi direttamente disinstalla questa app e le sue impostazioni se hai intenzione di disinstallare l'applicazione non reinstallarla direttamente sul Microsoft Store perché in descrizione ti ho lasciato così i comandi da inserire direttamente sul PowerShell quindi avvia Windows PowerShell come amministratore vado direttamente a copiare così questo comando per ottenere l'applicazione Xbox lo incollo qua e faccio invio una volta fatto aggiungi il secondo comando qua fai invio ed ecco qua Microsoft Store installa così il servizio del gioco e lo installiamo una volta installato così il servizio puoi chiudere direttamente il Microsoft Store puoi chiudere anche il PowerShell e basta andiamo direttamente sul nostro Xbox vado direttamente sul mio Call of Duty tre puntini gestisci vado su file e faccio direttamente una verifica e ripristina per riparare così il gioco se in caso hai ricevuto problemi proprio all'avvio dopo un'installazione chiudi un attimo qua vai direttamente sul tuo nome qua sopra in alto a sinistra vai su supporto strumento di ripristino alcune volte questo servizio funziona sempre riguardo all'avvio e il processo di ripristino quindi fa il ripristino di qualsiasi cosa usando gli strumenti dell'Xbox Game Pass e facciamo avvia ripristino e faccio sì farà così una diagnostica Game Bar e basta se non dovesse bastare chiudiamo un attimo qua e andiamo così ad installare il nostro DirectX Runtime web installe DirectX and user Runtime file scarica e lo installiamo e faccio fine se non dovesse bastare vado direttamente sui tre puntini vado su gestisci vado sui file vado su sfoglia quindi entro direttamente nella sua cartella ed eccolo qua Black Ops la beta cancello così tutti questi file faccio continuo chiudo qua e faccio verifica e ripristino per ripristinare e riparare così la beta di Black Ops 6 per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video ci sono altre guide a riguardo nella playlist in alto a destra su tutti i tutorial su come risolvere il problema al crash da DirectX problemi su Black Ops se sei che non si avvia e altri problemi ancora quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao